Sì, ragazzi sono Anthony Conca, facciamo un prossimo video di pallone, eccomi qua, metto la telecamera in base alla agilità, guardatemi Anthony Conca, sono Anthony Conca, guardate, facciamo il prossimo video di pallone, aspettiamo, vediamo se la telecamera è bella, sì, ottimo, vediamo come si vede l'inquadratura, benissimo, iniziamo con il video di pallone. Di sera, eccoci qua, palleggio, palleggia la caputua, pallone di merda, già cominci a fare scherzi, ragazzi, eccoci, palleggio, no, fottata tu, aiuta a finire la sotta, ci dici, guardate poche, ragazzi, palleggio, è un altro che si fa, Grande, vada là che ci fa, mamma mia, chi è? Raga, tocca in peccatura, oddio, è questo che ci convida, facciamo il prossimo, oddio, mi ha invidato la faccia, palleggio, 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 mamma, oddio, grande, regatomo. Il primo, estremo del video di pallone, andiamo ad apprendere sotto al deserto roccioso, grande, il pallone è andato a finire sotto al deserto roccioso, andiamolo. Pallone è andato a finire sotto al deserto roccioso, le trappole, le trappole, messe da tutte le parti, facciamo il video di pallone, eccoci con il video di pallone. Palleggio, 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 mamma, è Donigonga, con il video di pallone, facciamo il prossimo video di pallone. Palleggio, 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 tagagnola, a 180 all'ora, mamma mia, ha spezzato il ramo. Ragazzi, eccolo, il pallone, ha spezzato il pallone, guardate, il pallone, ha spezzato il ramo, mamma mia, veramente, non lo dico per scherzo, il pallone, ha spezzato il pallone. Palleggio, bene, costitivo, facciamo il prossimo video di pallone, palleggio, mamma, guarda là che cumbina, mamma, tra cagnola, tra cagnola, tra cagnola, facciamo il prossimo video di pallone. Eccoci qua. C'è chi ha una sdra cagnola? A 180 all'ora! No, oddio, se ne usano a prezzi! Palleggio, a 180 all'ora, a 180 all'ora, mi chiamano l'ora, a 180 all'ora, mi chiamano la Ehi! Ragazzi, è troppo, è troppo quello che ho fatto, ti aiuto a pigliare, mira, se no io vado a Brigida e mi vado a balleggio. Ragazzi, grazie per l'invito di ballone, ragazzi, è meglio non intervistare quello che stanno facendo.